Negli ultimi giorni sono stati nominati due nuovi assessori a Palazzo del Carmine. Contestualmente si è registrata l'uscita di Luciana Camizzi dalla giunta comunale. Ora il primo cittadino spiega le sue scelte, rispondendo anche all'ex assessore e a quanti hanno discusso con enfasi sul tema pure sui social, nonché all'ex viceministro Giancarlo Cancelleri, che sull'accaduto si è limitato a un laconico no comment, e annuncia che si ricandiderà alle prossime elezioni comunali previste nel 2024. Io sicuramente mi ricandiderò fra un anno e mezzo. Come spiega la città le sue ultime scelte sulla composizione della giunta? Quello che è successo, le polemiche, tutto quello che volete, sono del tutto relative perché è un normale avvicendamento all'interno di una giunta che per tre anni e mezzo è stata assolutamente uguale a se stessa dal primo giorno dell'insegnamento. Forse è un record italiano come giunta più longeva in assoluto. È chiaro che dopo per andare alla seconda parte dell'amministrazione è stato necessario andare a fare dei correttivi che riguardano sia il bilancio ma altro tipo di deleghe. Per esempio a livello tecnico la delega presente del bilancio è stata scissa in tre parti, per cui c'è una programmazione politica di tipo diverso rispetto a quella che è in origine. E questo ci sta perché è chiaro che la macchina amministrativa non può restare uguale a se stessa fin dal primo giorno dell'insegnamento ma deve essere adeguata all'esigenza delle città e i risultati raggiunti perché i risultati raggiunti ci sono. Cosa risponde all'ex assessore Luciano Camizzi? Per quanto riguarda le polemiche o altro, sulla dottoressa Camizzi io pensavo di avere scelto un tecnico invece mi sono ritrovato un atteggiamento politico e poi quello che ha detto che la giunta era scoordinata, lei ha fatto parte della mia giunta fino a tre giorni fa, quindi mi sembra che forse lei non si sia integrata. Come replica al no comment di Giancarlo Cancelleri? No comment pure io.